Siamo con il mister Francesco La Rosa, partita difficile diciamo col presidente pugliese, difficile anche commentare, comunque venere ampiamente rimaneggiata e forse con eufemismo, si è fatto male pure Manuel, ha dovuto uscire nel secondo tempo, perciò poco da dire su questa partita, bisogna archiviare e guardare avanti. Sarebbe stata una partita già difficile al completo, perché loro sono una grande squadra, per me, io ho incontrato Cotto, comunque loro per me sono la squadra più forte, quindi già al completo sarebbe stata già difficoltosa, così mi dispiace che non si è vista una bella partita, però ripeto anche al completo credo che loro sono più forti, sono più pronti, noi è il primo anno che facciamo questo campionato, quindi ancora per raggiungere ci vuole tempo. Però, ripeto, come tu ben sai, ho sempre detto, i playoff erano una cosa in più, se vengono, bene, ci giochiamo le ultime tre partite, due, perché penso che qui Pumas, le ultime due partite, purtroppo giocheremo, le condizioni di stasera saranno quelle di mercoledì e quelle dell'ultima giornata, purtroppo i nostri giocatori sono infortunati, non avremo quei 4-5 che facciamo la differenza. Dunque, appunto, parlando di mercoledì, contro il Blisseur è una partita che può essere anche più difficoltosa di quanto può dire la classifica guardandola, loro, dicevo prima, sono una squadra che ha appena battuto l'Eurobet Palermo, voi siete in queste condizioni comunque, in cui siete rimaneggiati, ci sarà da soffrire anche mercoledì? No, sicuramente, sicuramente, io non so chi mettere in campo mercoledì, cioè non è che sarà una partita difficile, non so chi mettere in campo, siamo 11 giocatori all'inizio di gennaio, me ne mancano 4-5, non so poco chi mettere in campo, quindi sarà una partita difficilissima, ma noi proveremo a vincerla poi, ripeto, come tu ben sai, come già ti ho detto, se vengono nei playoff, poi al completo ci divertiremo un po' con queste grandi squadre, perché ripeto, il Checco, complimenti, bella squadra, due squadre anzi, non una bella squadra, due squadre al primo tempo e al secondo tempo, due belle squadre. Quindi va bene così.